amanti di tv e gossip benvenuti nel mio canale oggi parliamo di salvo veneziano che attacca giulia salemi per il suo comportamento nei reality come avete letto nel titolo anche il padre di pierpaolo ha messo un like al suo post non è la prima volta che salvo attacca pubblicamente il reality e di suoi partecipanti dopo l'eliminazione subita a causa delle pesanti frasi rivolte alle donne durante la sua ultima partecipazione al gfvip ma vediamo che cosa ha scritto non sapevo che giulia salemi fosse pure famosa in spagna video vietato ai minori di 18 anni diciamo che ogni reality trova l'amore della sua vita il siciliano allude alla partecipazione di giulia salemi al reality show mtv super shore era il 2016 e la ragazza ebbe un flirt decisamente bollente con abran garcia storia d'amore secondo lui poi replicata con francesco monte durante il gfvip e nuovamente ripetuta con pierpaolo nell'edizione attuale ad alimentare la polemica uno dei like sotto il post del siciliano a mettere il mi piace è stato infatti proprio bruno pretelli il padre di pierpaolo dopo l'appello della madre ed il like del padre non poteva mancare il fratello giulio che ha risposto con un cuore al commento di un utente che scriveva ciao giulio ho ammirato il vostro tentativo di salvare pierpaolo dagli attigli di quella iena di giulia una vera famiglia agisce come avete agito voi non perdete i contatti con elisabetta che è una vera donna per poi difendere il padre dalle accuse di un altro utente sottolineando che suo padre è libero di fare quello che vuole e che ognuno ha il proprio pensiero il web è insorto in difesa di giulia e su twitter è comparso l'hashtag io sto con giulia che dire non certo un'accoglienza a braccia aperte per giulia nella famiglia pretelli e voi cosa ne pensate ditemelo nei commenti al prossimo video ciao